Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo video andremo a comprare il servizio Paramount Plus grazie al sito gamesgo.pro un'ottima piattaforma che ti fa risparmiare su queste piattaforme streaming ovviamente io negli scorsi video ho realizzato video come questi però avevo Netflix, l'abbonamento di Netflix grazie a gamesgo.pro quindi in questo caso come puoi vedere ci sono un paio di persone che hanno seguito così i miei video e ho iniziato a sponsorizzare questo sito una settimana fa e devo dirvi che è veramente molto molto comodo quindi in questo caso un ragazzo si è comprato Netflix come importo di 3,68€ come gli altri 4 clienti e un altro cliente si è comprato YouTube a 16,54€ per 6 mesi e ha risparmiato parecchio quindi in questo caso noi oggi andremo a prenderci il servizio Paramount Plus a 2,99€ grazie anche allo sconto come puoi vedere questo è lo sconto lo comprerai su 2,70€, 2,80€ ma forse anche di meno quindi te lo consiglio veramente come puoi vedere Paramount Plus se ti fai un account costa 8€ al mese puoi anche provarlo per 7 giorni ma io ti consiglio di usare gamesgo.pro quindi il servizio gamesgo.pro è questo ti fai l'account puoi anche accedere con l'account con Google senza problemi e quello che ti consiglio di fare se vuoi comprarti un abbonamento come puoi vedere io qua ho l'abbonamento di Netflix che ho condiviso con le altre persone però con Paramount Plus è diverso quindi il tempo residuo è 104 giorni ho l'abbonamento di 104 giorni il primo abbonamento l'ho comprato e i 3 mesi me l'hanno regalato veramente utilissimo Netflix per 104 giorni erano 112 però lo sto usando da un bel po' quindi quello che mi resta da fare è andare sul mio link quindi questo link lo troverai in descrizione sotto al video o in alto a destra o sul mio canale YouTube clicco qua sopra mi porterà così sulla pagina del link di affiliazione lo sconto se lo vuoi sta sullo schermo sul video oppure in descrizione codice ascolto io vado un attimo a comprarmi Paramount Plus perché c'è anche molti altri servizi anche Spotify per 3 mesi 10 euro per 3 mesi 10 euro eh per 10 euro se tu vai qua sopra e acquista un abbonamento non avrai 99 più lo sconto 3 mesi 10 euro cioè 10 euro quindi Paramount Plus un mese 2 euro e 99 codice promozionale come ho detto codice promozionale vado a mettere vado a mettere il mio codice promozionale faccio applica codice promozionale attivo 2 euro e 93 però e andiamo così al pagamento ok puoi pagare con Visa Mastercard e altri servizi metodi di pagamento vado un attimo al pagamento metto la mia carta il mio codice e pago ora 2 euro e 93 ok pagamento con successo il numero d'ordine consegnato con successo e visualizza su abbonamenti ok il tuo Paramount è in preparazione quindi non ci resta che aspettare un paio di minuti e vedere se ti arriva subito o dobbiamo aspettare forse qualche oretta ma non credo tanto Netflix me l'ha dato in meno di un minuto subito è arrivato se sei ancora su questa pagina basta che aggiorni e vedi se ti è arrivato io lo aggiorno eccolo qua tempo residuo 29 giorni ok allora abbiamo l'account e il codice che sarebbe la password quindi si prega di utilizzare il secondo profilo io Paramount Plus non l'ho mai usato quindi andiamo su Paramount Amazon eccolo Paramount eccolo qua allora accedi a Paramount Plus e iniziamo ad accedere a Paramount quindi vado su abbonamenti copio così le mail fate attenzione agli spazi password è questo codice mostra mostra questo è il mio codice faccio la copia e incollo e faccio e faccio e faccio continuo oh chi sta guardando Paramount ok allora qui ci sono sei profili il servizio mi ha detto di cliccare il secondo quindi clicco il secondo voilà ecco Paramount che bello 2,93€ ho il servizio quindi come ti ho detto puoi fidarti di questo io l'ho comprato ti ho fatto vedere che l'ho comprato ho messo l'account la password il codice tutto e quindi che vi posso dire di più grazie a tutti per questa visione per il vostro tempo se ti è veramente comodo clicca su quel link rimetti il codice sconto e compra qualsiasi servizio che vuoi Spotify Netflix Paramount Plus YouTube Premium altri servizi che puoi ascoltare musica quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao